Domenica si vota, chi votiamo come sindaco tra Giovanni Buccaro e Massimo Maffezoli? Si può votare tutte e due. Come vuoi? Li voto entrambi. Poi sarebbe bello avere, che ne so, io voterei tutti i sindaci, cinque candidati, tutti e cinque. A tornazione li farei amministrare per vedere chi è più bravo. Ma a parte gli scherzi, devo votare per forza tutte e due. Buccaro per la serietà e per il risultato che ha già ottenuto. E Maffezoli per un in bocca al lupo sperando che possa ottenere gli stessi risultati. Bella domanda. Entrambi. Perché entrambi possono fare il bene dello sport di Avellino. Tra la Scandone e lotta per lo scudetto con i playoff e l'Avellino e lotta per la pullo scudetto. Può darsi che arriverà un tricolore ad Avellino? Saremo veramente felici tutti. Perché lo sport deve trionfare in tutta la città, sia che sia il calcio che il basket. Una terza domanda a caso, perché di sport non mi interessa proprio. Comunque voto sicuramente non il calcio. Quindi il basket. Però l'abbinamento bianco-verde è fedele ai colori della città. Ma io sono una contraddizione vivente. Il momento a Buccaro perché lo confermiamo per quello che ha fatto per l'Avellino e sta ancora facendo. Poi Maffezoli non so nemmeno chi sia. L'allenatore della Scandone. Ah, l'allenatore della Scandone. Mi fa molto piacere per la Scandone, ma non la seguo. Quindi non sto proprio in diritto di giudicare. Mi sembra una cosa un po' utopistica. Quindi siccome io non seguo, le direi una sciocchezza. Non lo so. Le dico semplicemente, rimanendo proprio in tema, che è difficile scegliere. E forse come si sceglie, si sceglie male. Maffezoli per forza. Per quello che sta facendo quest'anno, dopo che Bucinicci è andato, secondo me si merita tutto l'affetto della piazza. È possibile il sogno tricolore? Non dico niente perché sono scaramantica. Ma fate quello che volete. Che faccia a dire? Io non ne capisco niente di politica. Non mi sono mai interessato. L'ho lavorato solo. E di calcio neanche, di basket? Non mi vado solo a calcio e col mio cane da calcio. Beh, io credo Bucaro perché gli voglio dare fiducia. Perché ha fatto una grande impresa e è riuscito a portarsi in Serie C. Quindi è giusto dargli fiducia ancora. E quindi potrebbe essere anche un buon sindaco? È probabile. Tu? Sì, anch'io, a dire la verità, mi iscrivo su questa linea. Potrebbe essere un buon sindaco e sperare a replicare la serie di vittorie. Anche in politica. Anche in politica. Tricolore chi lo vince? Perché l'Avellino sarà il Lappusco Detto, la Scandonea. Mi auguro la città. Grazie. Grazie.